Oggi nella sede di Rivera Banca di Rimini per presentare un progetto che ormai è sempre più una tradizione, che vede coinvolti centinaia di studenti e soprattutto dei partner internazionali. Da dove nasce la volontà di un'iniziativa così? Io credo che questo sia uno dei valori importanti, direi più importanti, della nostra banca, che è quella del sostegno ai giovani. Ecco, l'avvenimento di oggi, o questa iniziativa, è importante perché ormai è entrata nel nostro calendario e si svolgerà sabato e domenica, saranno aperti i nostri uffici e quindi gli uffici bancari, quindi i ragazzi hanno la possibilità di muoversi, di pensare, di organizzarsi in gruppi per manifestare le loro idee. La nostra è una banca che è molto aperta ai giovani, li sostiene, dedica parecchio tempo e anche investimenti importanti nelle borse di studio, nella crescita dei giovani, li sostiene fin dalla nascita, alla prima elementare, alla seconda elementare, alla prima media, alle superiori e poi ci sono i premi giovani talenti per delle borse di studio e per gli universitari. Quindi è una delle attività a cui ci teniamo di più, insieme con la cura, la prevenzione e cura della salute, che è un altro dei valori importanti della vita, insomma. L'università partecipa a questo progetto, ci crede fermamente sin dalla sua prima edizione, perché è un progetto che valorizza i giovani del nostro territorio. In che modo li valorizza? Li valorizza in una modalità che è estremamente innovativa, cioè i ragazzi stanno insieme ad altri ragazzi che spesso non conoscono, quindi le altre classi delle scuole della provincia di Rimini e sperimentano che quello che studiano nei libri è molto utile, ma deve essere sempre unito a quelle che sono le loro esperienze personali di vita, nel tempo libero, nella musica, nel volontariato, tutte le loro esperienze di vita e insieme anche quello che sono. Quindi perché Startup Weekend ha anticipato i tempi? Perché noi oggi sappiamo che orientare vuol dire costruire mappe, mappe che aiutano i ragazzi a capire quali sono i bellissimi percorsi che li aspettano nel loro futuro, ma quelle mappe sono fatte di tre dimensioni. Lo ripeto perché è un valore, secondo me, fondamentale, studiare, essere, la propria esistenza e ciò che si è in quanto individui. Un coinvolgimento molto attivo, sia di supporto ma di collegamento con le scuole superiori, con questi ragazzi, per stimolare il loro spirito imperditoriale. Ovviamente siamo qui come università perché siamo interessati che i ragazzi si iscrivano nel nostro campus, ma soprattutto che arrivino con quella voglia di creare impresa perché oggi serve innovazione e all'interno del campus di Rimini ci vogliono ragazzi che portino novità perché l'università non solo insegna, ma riceve anche energia da questi ragazzi. Questi elementi, quindi elementi come questi, giornate come questi, in collaborazione con Riviera Banca e le scuole circondarie sono importantissime perché si crea un legame, una sorta di profilo continuato di formazione che permette di accompagnare i ragazzi e aiutarli nella loro crescita. Startup Weekend gli dà l'opportunità di lavorare su un foglio bianco e di provare a realizzare quello che vogliono loro. Vogliono realizzare un'idea, vogliono migliorare la scuola, vogliono migliorare quello che gli circonda e hanno l'opportunità di farlo. Quello che gli diciamo sempre è partite da un problema, uno non lamentatevi, partite da un problema che vedete vicino a voi e provate a pensare a come migliorare quel problema lì. Poi è chiaro che non possono fare tutto da soli, per quello abbiamo circa 20 mentor che sono professionisti e imprenditori che sono a fianco a loro, a fianco a questi ragazzi per tre giorni e li supportano, li aiutano, chiaramente nelle cose più pratiche, come faccio a fare un logo, una presentazione, come faccio a pensare a un business plan. Ci sono professionisti che li aiutano, meglio, gli spiegano come funziona e poi sono i ragazzi che decidono se e come fare.